Casato unico, grande e solo protagonista di questa serata magnifica, con tanti nomi, Amedeo Minghi, Corrado Tedeschi, Oscar Prudente, Lorenza Mario, tanti, 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 veramente, è il grande, oh god. Allora, intanto io ti devo dire questo Gianluca, tu hai centrato in pieno l'obiettivo di questa sera, io mi permetto di fare una contaminazione, ascoltami. Allora, in moltissime canzoni, le bolle blu o le bollicine di casa francese, ma a noi piace sponsorizzare quelle italiane, sono state celebrate nelle canzoni. Le mille bolle blu, champagne. Allora, tu sei un produttore di una fetta d'Italia meravigliosa, che traina con la sua economia gran parte del nostro paese e sei anche un giovane imprenditore. Allora, le possibilità di un giovane imprenditore oggi in Italia, come te, nel tuo settore, nel segmento vino? Beh, nel segmento vino, per quanto riguarda le possibilità, noi in Veneto siamo fortunati, perché comunque ci sono molte agevolazioni, anche essendo giovani agricoltori, quindi giovani imprenditori ci danno delle agevolazioni e questo ci permette comunque di aver voglia di rimboccarci le maniche e di rischiare ad affrontare un futuro che non è, diciamo, tutto quanto roseo, per quello che diciamo in questo momento. Però, insomma, con un po' di autodeterminazione e la voglia di fare, io credo che ci si può tranquillamente arrivare. Non dico magari a vette invalicabili, ma a essere orgogliosi della propria terra e di quello che si fa come ambasciatori. Ti faccio ancora una domanda. Questa sera Casato Unico ha sposato la sua immagine a quella di Minghi, i personaggi che ti ho elencato prima. Allora, questo connubio di eccellenze italiane come la musica e il made in Italy, inteso come prodotto enogastronomico, come la vedi tu, come fiore all'occhiello, per un brand made in Italy nel resto del mondo? Beh, io lo vedo come il connubio perfetto, perché comunque c'è la bollicina che sposa sul cibo e c'è la bollicina che sposa appunto sul cinema, sulla musica, su quello che è praticamente una canzone, viene accombaciata durante un drink, quindi potrebbe essere appunto una bollicina, un bicchiere di vino di quelli che meritano, no? E soprattutto nel cinema, perché da che mondo è mondo, petali di rose, bollicine, le migliori attrici tipo Marilyn Monroe o tutte quante le donne dello spettacolo nostro e che ne abbiamo da farci invidiare, soprattutto come Sofia Loren, la prima. Io col cinema sono malato, quindi tra tantissime che mi venivano la prima è la migliore. Allora, tra poco ti presento una persona e parlerete di cinema insieme. Grazie e intanto si spengono le luci. Comincia il concerto.